Siamo dovuti riadattare completamente, ci siamo reinventati, abbiamo improntato l'attività sull'asporto, ci abbiamo messo un mese, un mese veramente a lavorare come dei pazzi per riuscire a ripartire, un mese dalla ripartenza ci viene già bloccato totalmente il lavoro, ci viene elevato l'asporto, l'unica cosa che potevamo fare in questo momento. Oggi ci hanno dato i tavolini, possiamo mettere i tavolini in strada ma non possiamo più servire la gente che passa. I tavolini sono sufficienti per ripartire? Ovviamente i tavolini non sono assolutamente sufficienti, avendo io uno spazio ridotto, dovendo io mantenere delle distanze, non potendo io chiudere la strada ho la disponibilità di veramente pochissimi tavolini per un'attività così pur essendo piccola non bastano fare 6-7 coperti in mezzo alla strada. E quindi come andrà a finire? Quindi andrà a finire? Non abbiamo la più valida idea, vedremo di rifare i conti a luglio se veramente ci impongono questa cosa, io spero siano in tempo per correggerla al più presto perché non porterà niente di buono.